La Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Augusta ha sequestrato circa 500 ricce di mare, frutto di una abbattuta di pesca di Frodo. Il sequestro è avvenuto durante un'attività di controllo del territorio di giurisdizione. In località Castellucci, infatti, sono state rinvenuti alcune grosse sacche contenenti circa 500 ricce di mare collocati a ridosso di un muretto. I pescatori di Frodo, alla vista della Guardia Costiera, hanno tentato di occultare i frutti dell'illegittima abbattuta di pesca, con l'intento magari di recuperarli in un momento successivo. I ricci di mare sono stati sequestrati e ancora vivi sono stati rigettati in mare. Partirà regolarmente a Priolo la stagione balnearia Marina di Priolo. Il commissario regionale, infatti, ha deliberato il piano spiaggia 2018 e i relativi servizi che inizieranno il 16 giugno prossimo. Alcuni servizi, però, sono stati rimandati alla programmazione che verrà adottata dal nuovo sindaco. Nel piano spiaggia sono stati confermati, invece, i costi già molto contenuti, che dovranno pagare i bagnanti per i servizi, parcheggio compreso. Si tratta di un low cost per permettere a tutte le famiglie di trascorrere una vacanza al mare senza intaccare più di tanto le loro finanze. Nel piano sono state confermate tre spiagge libere e attrezzate e i servizi bussolini a mare. Spiragli nella vertenza set impianti. I blocchi alle portinerie della zona industriale sono stati rimossi in attesa del vertice di mercoledì prossimo. Si lavora ad un'ipotesi di accordo che attende adesso il via libera del GIP del Tribunale di Catania. L'azienda è infatti protagonista di una doppia procedura tra le aule di Siracusa e Catania. Nella bozza che ha avuto ieri sera anche il via libera dei sindacati, si parla di richiesta di esercizio provvisorio da inviare al curatore fallimentare, ritiro del bando di vendita, delle attrezzature di riapertura delle trattative con chi aveva già manifestato interesse, oltre ovviamente alla ricollocazione di tutto il personale. Mercoledì mattina l'incontro decisivo in prefettura a Siracusa. Per il momento sospesa ogni azione di protesta, rimossi quindi i blocchi che sono pronti a ripartire se dovesse saltare l'accordo che pare in dirittura d'arrivo. Ad Augusta sono stati avviati i lavori di manutenzione della X strada statale 193. Si tratta di interventi successivi a quelli eseguiti lo scorso marzo che hanno riguardato la disostruzione della condotta sottostante il mando stradale, la pulizia del canalone e di una parte dell'area circostante. Come fa sapere l'assessore ai lavori pubblici, nonché vice sindaco Roberta Suppo, i lavori in corso prevedono la collocazione di barriere protettive sui entrambilati della careggiata, lo scavo della sede stradale per convogliare le acque meteoriche ed escolo proveniente dai terreni limitrofi, il rifacimento del mando stradale. Nominati a Carlentini 100 scrutatori in vista della competizione elettorale del prossimo 10 giugno. 100 persone estratte e assorte infatti saranno assegnate alle 20 sezioni durante la costituzione dei seggi, nelle operazioni di voto e nello spoglio finale relativamente alle elezioni amministrative che si svolgeranno nella giornata del 10 giugno prossimo. I 26 giugno saranno dunque composti da 5 scrutatori. Le sezioni saranno allestite nei plessi scolastici De Amicisi e Verga, in via dello Stadio, Pirandello in via Pietro Nenni a Carlentini Nordo e nella scuola elementare di Pedagaggi in via Principe Emanuele. Il progetto Uniamoci contro le droghe avviato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa ha dimostrato tutta la sua efficacia facendo registrare importanti risultati sul piano repressivo e di contrasto al fenomeno e positivi riscontri in ordine all'azione preventiva. In questi mesi sono stati effettuati mirati a capellare servizi sia in uniforme che non proprio per cercare di debellare le varie zone centrali di spaccio presenti nella provincia di Siracusa. Questo è il bilancio. 202 persone arrestate, 182 persone deferite alle autorità giudiziarie, 97 le segnalazioni alla Prefettura quali assuntori, 49,5 kg di droghe sequestrate, 19 patenti ridirate per guida sotto l'effetto di sostanze superficienti, 35 conferenze all'interno di scuole, 12 incontri con comunità di ragazzi, 20 servizi coordinati a largo raggio anche con l'ausilio di personale dell'Aspia di Siracusa, 22 servizi con unità cinofile dell'arma all'interno delle scuole e alle fermate degli autobus, 55 ragazzi al di sotto dei 20 anni interessati dall'azione di controllo e repressiva. Al riguardo il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, colonnello Luigi Grasso, afferma che il progetto ha dimostrato come la condivisione di obiettivi e di conseguenti azioni concrete costituisca un'arma vincente anche nella prevenzione del crimine. Lo scorso anno anche in Italia è stata introdotta la segnalazione di attività illecite nella pubblica amministrazione o in aziende private da parte del dipendente che ne sia venuto a conoscenza per ragioni di lavoro con la previsione di apposite tutele per il denunciante. Per fare il punto sulla situazione al Comune e verificare quanto finora fatto, il segretario generale Danila Costa, nella qualità di autorità anticorruzione dell'ente, ha incontrato al Salone Borsellino dirigenti e funzionari titolari di posizioni organizzative. Abbiamo richiamato le procedure previste dalla normativa affinché l'iter di segnalazione da parte del dipendente possa ritenersi correttamente adempiuto e ricordato inoltre le fattispecie che integrano le violazioni. Ad oggi, ha spiegato, sono pervenute due segnalazioni, concluse con altrettante archiviazioni. Andremo avanti su questa strada affinché le condotte illecite vengono dapprima individuate e poi denunciate.